un saluto a tutti mi chiamo andrea cecchetto e sono un appassionato di filosofia di scienza e un po di tutto ciò che attiene alla ricerca del vero vorrei presentare un libro che ho scritto l'anno scorso si intitola le corrispondenze universali e da presente su amazon assieme ad un'altra edizione sempre del medesimo libro più grande di modo che diciamo è più facile consultare i vari schemi diagrammi immagini che sono disseminati un po in tutto il libro l'argomento è la metafisica secondo me la filosofia antica è arrivata al suo culmine proprio alla fine con gli ultimi filosofi neoplatonici protino proclore eccetera poi alcune conoscenze sono andate perdute ecco io molto umilmente vorrei riconnettermi proprio con quelle conoscenze e integrarle non solo con le filosofie orientali la mistica cristiana ma anche con la scienza con alcune teorie scientifiche perché la scienza non si oppone secondo me a queste conoscenze ma anzi ho cercato di integrare tutto in un discorso anche originale credo se qualcuno fosse interessato volesse dare un po un'occhiata agli argomenti trattati amministro un gruppo facebook che ha lo stesso nome del libro le corrispondenze universali ecco se volete darci un'occhiata e grazie a tutti dell'attenzione un saluto